Rotko in ronco, assume l'iniziativa, Rosemary. Seconda posizione, Rani a bypass, dopo avvio lento, punta in avanti, Rotko in ronco, parato da Rosemary Baby, il garoppo di Rotko in ronco. Si arriva al completamento della prima piegata, 200 in 15 scarsi, in terza ruota Rosemary Baby che punta in avanti, va a caccia di Rosemary e Raffaele Forino, concede strada all'avversario. 31,2, il quarto iniziale, Rosemary Baby è nuova leader, dopo circa 500 metri di cursa. Seconda posizione, Rosemary a precedere, Rani a bypass, a tabellone anche Roy Stingox Don, 47,5,600, allargo in progressione, si fa notare Rapsody Griff. Completamento del giro in 1,3,5, sempre a comandare Rosemary Baby nei confronti di Rosemary, torna a galoppare Rotko in ronco, dopo che aveva recuperato il gap iniziale. 1,18,3, il primo chilometro, muove dalla corda, Rani a bypass e va a caccia di Rosemary Baby. Lungo la corda guadagna posizioni Roma degli Ulivi, allargo Rapsody Griff, poi ritmo Griff lungo la corda, affiancato da Ribelle Griff. Chiude il gruppo, Redi Fiori Spin, una frazione ultima in 16, che consente alla leader di rifiatare. Curva in 15,6, torna ad allungare sulla retta delle scuderie Rosemary Baby ai suoi fianchi di Rani a bypass, lungo la corda Rosemary, poi Roma degli Ulivi. Fanno fatica agli altri, ma dalle retrovie si fa vivo, Redi Fiori Spin. Miglio in 2,5, con Rosemary Baby ancora salda leader, in seconda posizione Rosemary, Redi Fiori guadagna posizioni su posizioni. Muove a largo adesso Rosemary, va a caccia di Rosemary Baby, di dentro Roma degli Ulivi, allargo Redi Fiori. battute conclusive, la leader è sollecitata, attaccata e superata da Rosemary, poi intervengono anche Roma degli Ulivi e Redi Fiori Spin. Rosemary, Redi Fiori Spin e Roma degli Ulivi, 3,13,7. E questo l'arrivo probabile ed ufficioso, si afferma Rosemary, riscattando l'ultima negativa esibizione, andando a concludere a media di 1,17,3 sul doppio chilometro, per i colori della scuderia Angelico & Company, Raffaele Forino, al training e dalla guida. 3,13,7, ripeto, è l'arrivo probabile ed ufficioso, delude la favorita Rosemary Baby.